poi possiamo cambiare fare un punto dopo questo sentito andiamo a rilogalizzare il resto con la testa e il resto il resto è un punto di poter realizzare e il resto è un punto di poter realizzare e il resto è un punto di poter realizzare e il resto è un punto di poter realizzare e il resto è un punto di poter realizzare